ciao ragazze e ragazzi eccomi qua sono arrivati i prodotti alcuni di kiko che ho ordinato ancora me li ha portati mia figlia allora allora ho voluto prendere intanto ho regalato a loro il praticamente il siero per olio siero per le sopracciglia per le ciglia le sopracciglia e le ho regalata alle mie figlie e non ho qui non ho portato è fatto come un mascara e mentre è trasparente e da questo siero che nutre le ciglia e le sopracciglia allora intanto vi mostro il packaging in questo qua che è molto carino ed è un rossetto il numero 05 che ho voluto prendere che è un tipo malva l'ho visto in un tutorial e ho voluto provarlo difatti è tipo malva qua sfasa un po ma è malva allora questo è lo 0 5 poi cosa ordinato ordinato un ombretto che ne parlano tutti così bene ho voluto trovarne uno anch'io almeno un prodotto per me nella collezione del devo prenderlo insomma ed è questo 2 qua che ha come ben sapere te ormai tutti ne stanno parlando a il suo primer occhi e l'ombretto i stick sempre dall'altra parte dove lo si evidenzia da questo colore sul tappino ed è questo qua io sono amante dei verdi ultimamente e ho voluto prendere questo verde che bello verde grigio verde poi io sopra vorrei immediatamente perché se no si asciuga e ciao allora immediatamente io gli picchietterei sopra un verde salvia sempre un verde militare così che non mi mancano e niente e allora questo era lo 04 poi e mi farò sapere perché io di solito di chicco non mi trovo perché prendo sempre pole palette in polvere perché ho sempre preso sono affascinata da quelli in crema a dire il vero soltanto che con chicco o penso che utilizzino un po di prodotti alcolici perché mi fanno allergia e allora ho evitato per un bel po di prenderle qui invece ha dei contiene dei prodotti vegani molto nutrienti che io ora non riesco a leggere però so che sono molto buoni e vegano quindi ho detto proviamolo se mai lo regalerò alle mie figlie come al solito che a loro per fortuna non allergia poi cosa ho voluto prendere ho voluto prendere il fondotinta perché appunto si sono sbagliati e dicendo che sono opachi e invece no sono luminosi io adoro il fondotinta luminoso e quindi perché lasciarlo ho visto che anche vegano allora il fondotinta la sua scatolina fuori e il packaging interno è questo qua molto carino mi piaceva proprio anche come fatto come packaging nella mia collezione mi mancava insomma che dire io in tutti tutti i fondotinta liquidi di chicco prendo sempre la colorazione numero 06 perché è quella che mi sta meglio anche queste 6 in effetti mi sta bene allora lo scocchiamo un attimino perché liquido adesso mi metto una goccia perché a me piace molto l'ho provato a sbocciare prima di fare il video è un cremoso ovviamente va steso ben bene no una bella stesora nel profumo e delicato vediamo si sa è vegano tutti sono vegani un buonissimo profumo vedete che è molto carino sul mio viso ci sta li ho sempre prese sfumati bene non mi ha fatto mai macchie eccetera 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 poi sempre di che ho voluto prendere la briga quartet che questa questa serie qua nuova nessuno che sia di gamma questa perciò è lo 02 è un quad una palettina però cioè non so lo avete un picco insomma o appunto volete ordinare sul sito ragazzi io non l'avevo sbocciato ovviamente dal sito ma questa è una cosa lo sbocciate a casa quindi da poco c'è lo specchio calamitato c'è una palettina pratica da portare anche in giro ma la scrivenza non non toglie nulla a nessuno guardate sono burrose quelli shimmer poi cioè proprio burrosissimi ma quanto sono innamorata di questi due cioè veramente di tutti è una cosa stratosferica aspettate che metto anche un altro ora non ricordo il prezzo sono sicuro non lo ricordo ma io so ce ne sono diversi questa la 02 ne sono una migliore dell'altra non è detto che non ne prenda altre la palette che vi dicevo questa mattina una è arrivata l'altra non ancora quindi aspetterò a un'altra palettina questa è di mesauda e anche l'altra di mesauda quelle da pinalli questa con lo spunto del 20 per cento erano è un bronze di mesauda con lo specchio ma guardate che bella ha dei colori che sembrano già visti ma fondamentalmente poi anche se ha di poco o qualsiasi altra cosa spasano quindi non sono mai uguali e la scrivenza è fantastica cioè palette di mesauda non ne avevo mai prese sinceramente ma devo dire che veramente meritano è sboccio qua sono queste due sono fantastiche prendiamo anche questo ancora non avevo sbocciato guardate cioè sono stra felice di aver acquistato tutte queste cose questa è veramente un gioiellino di palette mesauda è veramente una buona è per fortuna l'ho trovata su su pinalli non riuscivo perché proprio ha veramente tante palette belle nulla me ne mancherà una e la mostrerò per quanto riguarda il rossetto che indosso questa sera non è quello di stamattina la matita della collezione questa qua vegana no scusate no perché non ce n'è non ce n'è non ce n'è non ci sono matite labbra in questa collezione vegana questo è vero non ce n'è e questo qua è la collezione precedente quindi è la 02 ed è quella che indosso ora c'è uno spazio per me molto carina nelle mie corde super il rossetto in questione è quello di l'oreal 104 ed è come vedete un rossetto che secondo me è meraviglioso dura anche con mascherine eccetera quindi non so se l'altra volta vi avevo mostrato il rossetto che avevo preso ma penso di sì nella collezione nuovi chico penso di sia ad ogni modo ve lo mostro nel caso mi fossi dimenticata l'altra volta scorsa ma penso di avervelo fatto vedere ed è questo che è molto carino questo è lo 03 niente ora proprio tutto vi mando un bacione vi do una buona serata e buonanotte a domani ciao